Che siete voi? Ah ma ora ho sbagliato il gruppo Abbiamo Alice e Magherita Andrea, cavolo, mi confondi 3, 2, 1, via! Battuta! Capriola e tuffo! E si difende! La pallonata in Cina Sì, ma possiamo recuperare Difese, difese, difese fortissime Ancora aggressive, sì Ci siamo Uh, quasi, quasi, quasi Ah, va subito a prendere la palla a corta Non mollano queste bimbe Cambiamo il campo con un applauso D'incitamento ancora Siamo solo a metà Ecco gli attacchi in parallela di Giorgio e Pietro Che si scaldano ancora La spalla e sta arrivando sempre più forte Oh, pallonaccia Giorgio Presa, presa anche questa da Pietro Pallonetto adesso Si provano Ancora una palla lunga Con finta di Pietro Palla addosso Ultima palla Pallonetto finale Eccolo No, tocca l'ultimo pallone Uno sforzo soviumano Venite qua Venite, venite Hai mangiato un po' di sabbia? Te la consiglio con l'olio e l'aceto Ecco i voti Quasi nove E vuoi di quasi Nove meno, va bene? Nove meno Meno più Nove più Nove all'otto Nove all'otto non esiste Quindi Otto al nove Otto al nove Nove e mezzo barra dieci meno Nove e mezzo barra dieci meno Voti facilissimi da decifrare Pubblico Uno, due, tre Nove e settantadue Segna tutto Scialpi E hai sette secondi Per dirmi il po' di chiarito Allora